ciao a tutti io sono frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su bayonet siamo arrivati al settimo capitolo temperance la vertu cardinale giochiamo se cliccasse e da un pochino che non gioco quindi non aspettatevi nulla eccolo qua quello che ci stava parlando audizio temperantia quindi lui è temperance ti conoscono tutte le sto non crederei sia morta così non mi sembra molto interessata da questo dialogo ok ah l'ha trasformato in una creatura ma noi l'abbiamo fatto sembra proprio di sì attenzione così subito è anche iniziato già rompendo tutto ok facciamola bravi per favore funzionano le schivate ah ho il potere sbloccato bene salta 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 e siamo arrivati solamente che non gli sto facendo assolutamente nessun danno ahia è vero che adesso ho la tigra cioè la tigra la pantera si fermo due volte quindi non posso più spammare cosa devo fare? dove sono? dove sono? non sto per morire vero? ah no è ora? vieni qua rispariamo un pochino ah si è arrivato schiva ok siamo sopra il suo braccio ecco cavolo questo è un problema ok ok ce l'abbiamo fatta eh ma dovevo arrivare esattamente? non so assolutamente cosa io stia facendo ma va bene così apoteosi ok li stacchiamo il braccio sicuramente col corvo ah no è bello grosso questo sono delle mani eh ok è un andato quindi devo passare la gemme aiuto devo attaccare tutte le gemme rosse vediamo se riusciamo a distruggerglielo perfetto abbiamo preso un danno da un urlo ah no c'è uno di quei serpenti del vento ok cosa stai facendo ho delle cure si usiamola per sicurezza non vado assolutamente niente ok li abbiamo schivati perfetto schiva saliamo sopra il braccio e andiamo stavolta più rapidi dei leprotti ok come l'ho fatto in fretta apoteosi vai uh altro braccio dammelo che mio mi serve ok grazie e ora ah e ora si combatte sul suo corpo cosa devo cercare ok eccone uno presumo che quello fosse aia 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 bloccato da da queste specie di barriere ecco un'altra ecco un'altra mi ho eliminato anche quella cosa c'è un'altra se c'è una terza c'è una terza seguiamo il filo oh mio dio c'è stato un attacco di un gatto riprendiamo perfetto anche il terzo è andato con la gemma si può rompere però oddio che scatti facciamo attenzione perché abbiamo poca vita oddio cosa sta per fare no 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 morì che paura ma stai scherzando è finita oddio oddio era fatta dai almeno non mi fare fare tutta la battaglia ho fatto una parata perfetta una scrivata perfetta sicuramente non si capisce un cazzo però cosa è stata la camera ti prendi questa passata di colpi si magari non passare sul raggio schiva uh no stavo sbagliando verso di nuovo apoteosi vai è finita devo farci ben poco ormai carica che forte no non sono riuscito mi ha schiacciato la faccia certo che fanno molto schifo comunque questi esseri direi che abbiamo vinto cosa avete questo sta cercando di scappare chi aveva ragione qualcuno sa per esplodere eh già no ok triste perfetto è stato battuto lo lascio in vita ok ho avuto un problema alla webcam ecco qua schiacciato ah no si salva no ok perché perché ci sto osservando da lontano uh achievement bloccato capito di 5 set è normale la temperatura sia manipol del vento vai almeno non è di pietra vediamo l'aspetto positivo ok allora spara da quello lontano vale sempre 5 quindi non conviene 28 posso fare ben poco ok avanti abbiamo 70.000 punti vediamo cosa possiamo fare non credo di avere helpi infatti va bene nuovo prodotto ora la disponibile nuova tecnica prova la forma pipistrello prova la forma corvo trasformati in uno storm di pipistrelli per mitigare i danni subiti dopo aver subito danni trasformati in un corpo ad esempio il potere del volo ma perché no dai proviamoli 1 e 2 e poi ci prendiamo con 20.000 lo stiletto premi rapidamente due volte verso il nemico più y sembra abbastanza semplice armi direi di lasciare così com'è e usciamo sì perfetto gli episodi dei boss sono sempre corti però abbiamo deciso di fare un episodio a capitolo quindi noi ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo episodio sempre qua sul mio canale ciao a tutti se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video iscrivetevi